Buonasera, bentrovati, buonasera Brolo, buonasera, buonasera. Mi viene subito da dire Marevigliosa Brolo. Sarete liberi di applaudire quando vorrete ma di applausi ne farete tanti perché Alfredo Lofaro che ha organizzato questa serata specificatamente proprio per oggi ha portato qui artisti veramente straordinari. Ve lo chiedo per il direttore artistico che è Salvatore Gentile, grazie Salvatore, applauso anche per te. Signore e signori Giuseppe Milici all'armonica e Francesco Buzzurro. L'applauso forte che vi chiedo è per Violante Placido. Degenerare poi, degenerare. Francesco Caffiso. Signore e signori Gianfranco Iannuzzo. E rivolgendosi all'altro compagno che era rimasto dall'altra pompa di Pettino, ci va Carmelo, mi segui la moto, però figlio di Buonamante si spiega bellissimo. Pietro Adragna Alle tentazioni no Buonamante si spiega bellissimo. Buonanotte 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 Grazie a tutti.